Hanno deciso di sottoporre la variante alle opere di compensazione al voto del Consiglio Comunale e non fermarsi ad un parere positivo della conferenza dei capigruppo, all'indomani della riunione romana dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle con i vertici dell'ANAS e del Ministero. La base del Movimento si è riunita insieme al portavoce in Consiglio Comunale, Giovanni Magri. Due le ragioni per le quali i pentastellati non consentiranno che sia la conferenza dei capigruppo a decidere. La prima perché secondo lo Statuto non è l'organismo preposto a farlo. La seconda perché il Consiglio Comunale a rappresentare i cittadini come recita l'articolo 8 dello Statuto citato dalla nota del Movimento inviata alle redazioni. Ed infine perché se non decidesse il Consiglio si disattenderebbe la deribera del 10 novembre 2014 votata dallo stesso che prevede che la decisione delle opere di compensazione deve passare dal civico consesso. E dunque tutto quanto deciso nella riunione di sabato pomeriggio dal Movimento sarà esposto in conferenza dei capigruppo.